e ritorniamo sabatotina dance, siamo in piazzetta, attenzione stiamo riprendendo qualcosa di speciale perché tra pochissimo capirete di chi parliamo, si niente poco di meno che è del mister Sanpei ragazzi, Sanpei ma quanto sei alto di persona, no 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 no, si stia comodo, si stia comodo da dove arriva Sanpei? provincia di Vicenza, in realtà lei si chiama? Daniel, ma perché gli do del lei, perché è un VIP? no, mi do pure del tu, allora ti do del tu, Sanpei, allora prima di arrivare qui al convento, quale lago hai visitato e quale vittima hai catturato, che pesce? no, pesce ero io che si rinforzavo nell'acqua, mi hanno fatto fare un bagno nel lago, ho fatto sci nautico, era la prima volta quindi ho bevuto tanta acqua, tanta acqua ovviamente quando cadevi dovevi stare attaccato, per forza, per forza, mai staccarsi, è bene tanto, mai 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 mai, attenzione, prendete nota perché questi sono dei utili esempi invece l'ho fatto io, l'ho fatto lui, ogni tanto, Sanpei, visto la vittima, ti tocca, sei caduto nell'esca, visto? Allora, sai che questo video lo troveremo sul sito del convento.it? bene, una bella sputtanata no, non pensare perché qui noi ci divertiremo e Sanpei con noi, Sanpei, a chi dirai sì? Come si chiama la tua fanciulla? Laura Laura, e quando? tra due settimane, l'8 ottobre dove? a Monte Caldella a che ora? alle 11 ragazzi è preparatissimo, nonostante si è tenuto attaccato, ha bevuto tanta acqua, è preparatissimo e perché dirai sì? beh, scelta, abbiamo deciso, insieme ma non è che c'è solo scelta, ma c'è anche grande amore beh, certo, ovvio diglielo, diglielo c'è tanto amore Laura, ti vuole dire una cosa, Sanpei? diamo tanto mamma mia che tenerone allora, Sanpei, ti auguriamo una buona pesca in questo convento.it convento dinner sabato, insomma c'è di tutto, di più molto divertimento, mi raccomando innanzi mi raccomando il ci Grazie.